A tutti voi buonasera dal Tg Max, la Regione Abruzzo è pronta a commissariare il consorzio dei comuni del CIRSU e il socio privato SOGESA se il contenzioso in essere che ha permesso l'accumulo di circa 10 milioni di euro di debiti continuerà a impedire la realizzazione della discarica di Grasciano a dichiararlo il segretario generale della Regione Enrico Mazzarelli e il senatore del PDL Paolo Tancredi senza impianti l'Abruzzo non uscirà mai dal problema dei rifiuti ha dichiarato il senatore e quello di Garisciano è l'unico impianto immediatamente canterabile il segretario generale Mazzarelli ha ricordato che la Regione ha stretto una convenzione con il CNR per lo studio della qualità dei rifiuti prodotti in Abruzzo il giudizio che verrà rimesso servirà a chiarire che tipo di impianto e dunque soluzione è tecnologicamente compatibile per la tipologia dei rifiuti prodotti ma soprattutto meno impattante dal punto di vista della salute dei cittadini sono quasi 3.500 i posti di lavoro persi nella scuola nell'ultimo triennio l'allarme della CGL che chiede un immediato intervento della Regione Nell'ultimo anno 768 lavoratori del settore scolastico di cui 378 docenti e 386 ausiliari tecnici e amministrativi hanno perso il proprio posto di lavoro nell'ultimo triennio la cifra sale a 3.432 unità l'allarme è stato lanciato dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza CGL regionale che chiede un intervento immediato della Regione secondo il segretario Cinzian Grilli i tagli rimangono nonostante le 500 immissioni in ruolo pubblicizzate in maniera impropria in estate che riguardano posti vacanti e disponibili ma che ovviamente non sono tutti posti vacanti e disponibili non è vero che queste immissioni sono state fatte a costo zero così come prevedeva la relativa legge perché il Governo nazionale ha risparmiato ben 70 milioni di euro a fronte dei 378 docenti tagliati, ha detto il segretario la scuola abruzzese ha perso solo 708 alunni la flessione più consistente riguarda la scuola primaria e la scuola superiore si tratta comunque di un dato preoccupante che dimostra come non ci sia stato un sistema per tenere gli alunni a scuola e che riafferma la necessità di classi in cui gli studenti siano seguiti dai docenti preoccupa anche il ridimensionamento della rete scolastica la Regione, ha detto Angrilli, ha aperto un tavolo tecnico e si è chiesto che sia posta l'attenzione sulle specificità territoriali in Abruzzo l'applicazione di questa legge porterebbe 72 istituti su 252 ad essere fuori norma e quindi ad essere accorpati in strutture comprensive che abbiano almeno mille alunni altro problema da non sottovalutare è quello delle cosiddette classi pollaio ovvero aule di 33 studenti a fronte di una continua diminuzione dei docenti e dei collaboratori scolastici con il risultato che l'emergenza lavoro coincide con un drastico abbassamento purtroppo della qualità didattica Un motociclista pescarese di 28 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civile per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto la scorsa notte nella zona dei Colli secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe scontrato con un'auto e nell'urto sarebbe finito sotto il mezzo Si svolgerà domani a Lanciano presso Palazzo degli Studi l'Assemblea dei Sette Centri Dialisi della ASL Lanciano Vasto Chieti l'incontro è aperto a pazienti, familiari e medici I problemi dei dializzati e le possibili soluzioni saranno al centro della prima assemblea dei Sette Centri Dialisi della ASL Lanciano Vasto Chieti in programma domani pomeriggio a Lanciano presso Palazzo degli Studi e promossa dalla delegazione ANED di Lanciano all'incontro sono stati invitati pazienti, familiari e medici secondo gli ultimi dati dal 1996 ad oggi idealizzati in Italia sono passati da 36.000 a 60.000 ma il numero dei centri per le cure e il personale a disposizione è rimasto invariato con tutte le conseguenze che comporta basti pensare che nella sola ASL Frentana ci sono oltre 1.000 pazienti con insufficienza renale 55 dei quali impossibilitati ad iniziare le cure Giulio Bomba Ma perché non entri in viaggio? perché i centri dialisi 7 erano 15 anni fa 7 sono oggi i medici e gli infermiere erano gli stessi quantitativi e le macchine di altaia sono le stesse quindi occorre fare attenzione e prestare attenzione a questi soggetti faccio una denuncia il prodotto a proteici che nel mese di ottobre la regione ha ripristinato bene noi a Lanciano non riusciamo a darli ai nefropatici ma che cosa significa? se il prodotto va dato e uno da questo prodotto riesce a fare entrare in dialisi se solo sei mesi lo Stato non ha risparmio a 15-16 mila euro e perché a Lanciano non si attiva questo servizio che già è a Ortona è a Tessa vicino a noi e noi spesso dobbiamo mandare questi nostri pazienti lì a ritirare questa pasta inoltre per ottimizzare i tempi e ridurre i costi sarebbe auspicabile prendere ad esempio quanto già si fa in altre città del nord Italia ovvero munirsi di macchinari che certificano l'avvenuta dialisi con un semplice bottone ci sono delle macchine che quando un paziente entra in dialisi si schiaccia un bottone e si misurano i principali valori del sangue come la creatinina, l'azotemia e altre cose dopo le 4 ore di dialisi si rischiaccia il bottone e si vedono i valori e ovvio se uno è entrato con 9 di creatinina e esce con 3 vuol dire che ha dializzato viceversa oggi che succede? prelevano ogni 15 giorni il sangue lo mandano al laboratorio e dopo 10 giorni o qualche giorno ritorna indietro il referto e quindi lui ha già dializzato non si sa se ha dializzato o no o io mi domando siccome le nostre macchine non sono di proprietà delle AS ma sono in affitto allora bisogna verificare nei contratti la mortalità della macchina e farsi dare le macchine le migliori che ci siano perché io penso che questa categoria di dializzati che escono dal mondo della vita hanno diritto a essere accompagnati nella loro vita con le cose migliori chi volesse avere notizie o comunicare disagi può farlo attraverso facebook o scrivendo un e-mail all'indirizzo due giovanissimi di 17 e 18 anni sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Roseto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti i militari erano sulle loro tracce già da alcuni giorni i ragazzi sono stati sorpresi mentre passeggiavano nella frazione di campo a mare all'interno degli zaini sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish di cui una parte suddivisa in 17 dosi pronte per essere cedute un bilancino di precisione e un coltello a serramanico per tagliare lo superfacente il 18 anni agli arresti domiciliari mentre il minorane è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di L'Aquila alimentazione e foreste sono i temi della campagna di educazione ambientale del WWF i corsi sono aperti alle scuole della regione vediamo prendere al via nel mese di ottobre l'annuale campagna di educazione ambientale del WWF due programmi di educazione ambientale rivolte alle scuole della regione per l'anno scolastico 2011-2012 il Panda Club e il Panda Explorer il primo è dedicato alla sostenibilità a tavola le classi che si iscriveranno seguiranno il percorso didattico con giochi con corsi di ricette sostenibili e piccoli esperimenti per scoprire l'impronta ecologica di diversi cibi il secondo percorso didattico è quello sulle foreste nell'anno mondiale della biodiversità i ragazzi potranno avventurarsi in un lungo e appassionante percorso su uno dei sistemi naturali più importanti per il nostro pianeta impareranno a conoscere i delicati equilibri che regolano i cosiddetti polmoni della terra e il loro ruolo nel proteggere la biodiversità e nell'attenuare gli effetti del cambiamento climatico Augusto De Sanctis questi due percorsi didattici sono rivolti appunto agli insegnanti e alle classi che possono iscriversi al WWF e appunto ricevere il materiale didattico necessario per seguire questi programmi educativi inoltre abbiamo organizzato per gli insegnanti 14 incontri nei principali centri della regione presso le nostre OSI questi incontri si svolgeranno a ottobre proprio per la formazione degli insegnanti che vogliono partecipare a questi percorsi didattici genitori che sono interessati a far partecipare le classi a questi percorsi e soprattutto gli insegnanti possono scriverci ad abruzzo-chiocciola-vvf.it per ricevere informazioni su queste attività didattiche i carabinieri di Mosciano hanno arrestato in flagranza un disoccupato del posto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali l'uomo 41 anni convive con i genitori 70 anni dopo la separazione dalla moglie questa mattina come spesso accade per futili motivi li ha aggrediti con calci e pugni procurando loro ferite e contusioni che i medici hanno giudicato guaribili in 15 giorni gli anziani sono però riusciti a chiedere aiuto ai carabinieri che una volta sul posto sono riusciti a bloccare il figlio mentre li stava ancora picchiando l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Castrogno dopo il medico di Barisciano anche il consigliere comunale di Vasto Luigi Marcello si appresta ad aderire alla class action contro Banca Italia al ministero delle finanze e poste italiane per riscuotere due buoni fruttiferi risalenti al 1941 e di questi giorni la notizia di un ritrovamento di alcuni buoni fruttiferi del 1954 a Barisciano in provincia dell'Aquila e anche a Basso il consigliere comunale Gino Marcello ha trovato dei buoni fruttiferi del 1941 addirittura questi sono buoni a cui è legato diciamo affettivamente sono una parte della storia della mia famiglia infatti questi risalenti sono due che sono stati ritrovati nel momento in cui dopo la dipartita di mia madre da alcuni anni fa è stato un po' messo in ordine tutto il materiale di sua proprietà esistente nella casa materna e quindi ecco sono stati ritrovati questi due buoni che ripeto fanno parte della storia della nostra famiglia infatti risalgono uno al gennaio del 1941 e questo in particolare risulta effettuato dall'ufficio postale sul sommergibile Brin quindi in Atlantico perché mio padre era fatto nel periodo di guerra imbarcato su due sommergibili uno il Brin dove era silurista e quindi nel momento in cui nel periodo di navigazione lo stipendio che veniva riscosso una parte veniva mandato alla famiglia in terraferma e quindi mio padre corse l'occasione di fare questo buono fruttifero proprio nell'ufficio postale sul sommergibile l'altro che risale invece al dicembre del 1941 risulta effettuato da Pescara la notizia di questi miei buoni chiaramente stamattina ha messo in movimento il pensiero e le menti di parenti ed amici infatti ho ricevuto una telefonata di un mio cugino da Roma che aveva ricevuto da parte di mio padre proprio la testimonianza di questo buono fruttifero che era stato fatto nel 1941 da Pescara proprio dal padre di questo mio cugino dal cugino di mio padre che lavorava a Pescara e quindi aveva ritenuto opportuno fare un regalo forse il regalo di nozze non lo so a mio padre ed aveva fatto questo buono fruttifero i due buoni fruttifero sono uno intestato a mio padre e uno intestato a mia madre quindi ecco è stato evidenziato questa disponibilità questa presenza più perché l'argomento all'ordine del giorno una tomba l'area è stata è stata transennata con personale che vigila il luogo 24 ore su 24 e siamo alla pagina sportiva per il calcio in serie B il Pescara torna al successo vincendo contro l'Albinolefe per 5 a 3 e risalendo in classifica in signe e immobili grandi protagonisti il Pescara cala il pocherissimo e supera l'Albinolefe di Fortunato per 5 a 3 rilanciandosi in classifica 4 reti nel primo tempo e quinta marcatura ad inizio ripresa per un Delfino versione squalo trascinato da un super in signe Zeman opta per l'esordio assoluto del baby Loris Bacchetti classe 93 per risolvere l'emergenza difensiva in zona centrale confermando in toto la formazione ipotizzata alla vigilia con Petterini di nuovo nell'11 titolare calcio di inizio affidato agli ospiti che al quinto sono subito pericolosi con il proprio tridente Sissè vince un contrasto con Petterini suggerisce centralmente per Cocco che allarga in favore dei girasoli cui cross non trova la deviazione del Colored che grazie a Anania svirgolando al settimo Pescara in vantaggio con il provvidenziale aiuto della Deavendata e Bergamelli lo sfortunato autore della deviazione che spiazza il proprio portiere trascorrono appena 5 minuti e il Pescara l'occasione buona per il raddoppio con Sansovini che non concretizza una bella manovra sviluppata sull'asse campano immobile in signe e dopo 60 secondi Sansovini lavora un buon pallone sulla destra chiama all'incornata immobile che non inquadra lo specchio della porta difesa da Offredi minuto 26 bianco-azzurri che raddoppiano con Sansovini ma il merito della rete è per gran parte di Insigne Insigne regala un pallone delizioso al capitano che lo tramuta in oro torna a sognare il pubblico dell'Adriatico sul ribaltamento di fronte Anania con una prudezza salva il doppio vantaggio su tiro a botta sicura di Cissé sempre pericoloso al 39esimo ancora Anania sugli scudi a dire no con i piedi in uscita bassa con Cocco che a tu per tu con l'estremo di casa vanifica la sua splendida progressione ma è Insigne che triplica le marcature deviando dopo un taglio centrale senza palla un cross di Gessa rivediamo l'esecuzione per il 3 a 0 nemmeno il tempo di festeggiare la terza rete d'Annunziana che lo stesso Gessa sigla il poker con una conclusione dalla lunetta dell'area di rigore che non lascia scampo al portiere Lombardo è festa grande sugli spalti al rientro dagli spogliatori Zeman presenta Pinsoglio il luogo di Anania riparte subito forte il Delfino che porta a 5 le reti con Immobile che a porta vuota non ha difficoltà a siglare la sua sesta rete in campionato su assist manco a dirlo dell'imprendibile Insigne e Zeman applaude al 66esimo Pinsoglio devia plasticamente sulla traversa un bolide di Previtali e poi è molto reattivo nel bloccare il pallone che Legno aveva rimesso in campo per il facile tentativo di tapin di Cristiano applausi per lui lo stesso Cristiano accorso alle distanze un minuto dopo griffando il gol della bandiera con una bella conclusione balistica all'ottantatresimo penalty decretato dal signor Baratte in favore dei seriani per fallonetto di Balzano su Cristiano dal dischetto Cocco trafigge Pinsoglio che comunque aveva intuito la traiettoria e ancora passano 5 minuti Girasole accorcia ulteriormente le distanze battendo da distanza ravvicinatissima l'azzurrino Pinsoglio tutto qui 5 a 3 fischio finale del signor Baratta di Salerno e il Pescara torna a sognare Nell'anticipo del campionato di eccellenza trasmesso in diretta su Telemax Vasto Marina Capistrello è terminata 0 a 0 vi ricordo domani la ricca programmazione sportiva della rete alle 19.15 con anteprima Passione Calcio alle 20.30 l'Abruzzo del Pallone alle 22.30 Passione Calcio cambiamo adesso disciplina torna domani il tradizionale l'appuntamento con la Stralanciano attesi oltre 700 atleti all'ombra del campanile e siamo qui in piazza Plebiscito a Lanciano per un appuntamento che è ormai classico appuntamento 32 con la Stralanciano ne parliamo con uno dei organizzatori Giacinto Verna in programma domenica non è ottobre se non è Stralanciano hai perfettamente ragione non è ottobre se non è Stralanciano la classica delle classiche 32 edizioni 32 candeline è una delle poche città a livello regionale che può vantare un numero così massiccio di competizioni e di gare la Stralanciano da ormai tre anni non è più però soltanto la gara di 10 km e mezzo è diventata pure mezza maratona frentana la classica mezza maratona di 21 km e 97 metri che l'anno scorso ha riscosso un grandissimo successo sia di partecipazione che anche come come real time come tempi diciamo di percorrenze impiegate dai vari atleti noi speriamo quest'anno di ripetere lo stesso exploit che abbiamo avuto l'anno passato probabilmente faremo anche il record di iscritti non è ancora certo ma probabilmente andremo anche verso questa direzione io invito quindi tutti quanti a partecipare a questa bellissima giornata di festa di sport perché è prevista anche alle ore 9 e mezza una gara per bambini sempre alle ore 10 insieme alla Stralanciano la mezza maratona partirà la non competitiva di 5 km e mezzo quindi tutti i lancianesi che volessero con i propri figli con i propri parenti con i propri amici animali percorrere questi 5 km e mezzo attraverso le strade della città di Lanciano possono venire noi li aspettiamo e voglio dire ancora un'ultimissima cosa la Stralanciano da quest'anno è anche impegno sociale perché vogliamo ecco tutti gli organizzatori indosseranno una maglietta vogliamo la costa dei Trabocchi sempre a significare che la corsa il turismo di tipo di tipo culturale e quindi la costa dei Trabocchi e quindi il parco della costa tiatina fanno pandan con questa manifestazione ed è tutto vi lascio al Meteo Max vi ricordo che l'appuntamento con la nostra informazione torna come sempre domani domenica con il TG7 grazie per essere rimasti con noi buona domenica a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.